Elisa il 7 luglio si è esibita nel festival musicale Eolie Music Fest insieme a Dioda. Il concerto si è svolto sopra una barca a vela a largo di Lipa. Probabilmente la cantante ha sfruttato il suo essere già in una località così bella per godere di alcune ore di relà. Sui social sta circolando un video in cui si vede Elisa, insieme ad un gruppo di amici, navigare su un'imbarcazione, mentre lei si faceva sempre più vicina, da un'altra barca. Sui social sta circolando un video in cui si vede Elisa, insieme ad un gruppo di amici, navigare su un'imbarcazione, mentre sui social sta circolando un video in cui si vede Elisa, insieme ad un gruppo di amici, navigare su un'imbarcazione, mentre lei si faceva sempre più vicina, da un'altra barca. Sui social sta circolando un video in cui si vede Elisa, insieme ad un gruppo di amici, navigare su un'imbarcazione, mentre non è la prima volta quest'estate che gli artisti ricevono gesti inaspettati da parte dei loro fan. Ultimo, ad esempio, è stato raggiunto, sul suo yacht, a nuoto da un fan solo per Elisa, a jjegiapic.twitter.com barra di 2cd4a8qx5 un post condiviso da Eoliemusic Fost, Chiocciola Eoliemusic